Musica Ingegnere, pilota, astronauta, uno dei sette finora astronauti italiani che hanno avarcato l'atmosfera, che sono andati oltre e che hanno potuto vedere la Terra da un'altra prospettiva. Da tutta un'altra prospettiva. Maurizio Chieri, sei un uomo fortunato o un temerario? Direi non temerario, oppure in parte temerario, nel senso che ho cercato di seguire i miei sogni, con tutto quello che ciò implica, con anche le difficoltà che si incontrano sul cammino, soprattutto le difficoltà di decidere, perché quando si decide è come arrivare a un bivio, o si va a destra o si va a sinistra e certe volte quando si svolta da una parte non si sa esattamente a cosa si va incontro, ma spesso, quasi sempre, si sa esattamente che cosa ci si lascia dietro. Prima di spiegarci la tua filosofia di vita, raccontiamo come sei arrivato a partire quel giorno e startene 17 giorni nello spazio, sullo shuttle, questo è stato tra l'altro il primo che aveva una missione operativa tra gli italiani. Sì, io facevo il pilota militare in aeronautica militare, pilota collaudatore e un giorno si è presentato un... Che già lì la sfida e il rischio, insomma, erano pane quotidiano. Sì, però mi piaceva tanto, mi piaceva molto. Poi un giorno ho visto sul giornale, come tanti altri, un concorso pubblico, cercasi astronauti. E hai mandato il curriculum. Io ho mandato il mio curriculum, perché a me piace volare, quindi si può immaginare che a chiunque piace volare, volare in un'altra dimensione come lo è, volare nello spazio sia veramente il massimo per soddisfare la propria passione. Ma l'hai mandato così, come diceva, beh, ci provo, ma senza molta convinzione. No, 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 con tanta convinzione del volerlo fare. Non so, non sapevo allora... Quanti candidati eravate? Esatto, eravamo... era un concorso basato, diciamo, in due tappe, una nazionale e una a livello europeo, perché il concorso finale era a livello europeo. Diciamo che, contando tutti quelli che hanno applicato in Europa, erano più di 6.000 persone per 6 posti. Un terno all'otto. Un terno all'otto, esattamente. Ma tu ci avresti mai pensato o proprio perché ci avevi pensato questa era la realizzazione di un sogno? Io sono nato con una generazione, appartengo a una generazione ancora di quelle persone che hanno visto lo sbarco sulla Luna, in un mondo in cui gli astronauti era diviso, come il resto del mondo, anche quello dell'astronautica era diviso in due, americani e sovietici, diciamo. Però era un sogno che coltivavo e diciamo che ho sempre cercato di seguire la mia passione. passione è un qualcosa che ha a che fare con la professione, ma è un qualcosa che è un po' di più, perché è trovare la gioia nel proprio lavoro, che è quello che motiva e non è solo un puro lavoro. E quindi quando poi si è presentata l'occasione per diventare astronauta, io ho cercato di prepararmi al massimo e ho concorso come tante altre persone. Quando ti hanno detto ok, parti vai a Houston, tocca a te. Per me è stata una cosa incredibile, perché è veramente come qualcuno a cui piace la Formula 1 che si ritrova da un giorno all'altro all'interno dell'abitacolo di una Ferrari di Formula 1. Cioè una cosa per me è stata incredibile, per me Nase è sempre stato un nome mitico, io l'ho sempre associato alla conquista della Luna. Leggevi libri di fantascienza? Ecco, questa è una cosa che sorprende tante persone. A me la fantascienza non piace, sono uno piuttosto realista, diciamo, il che non impedisce di sognare, per cui mi proietto nel futuro, ma non divago troppo, rimango con i piedi abbastanza per terra, anche perché la mia famiglia era una famiglia con i piedi molto per terra. Beh certo, tu la fantascienza l'hai vissuta nella realtà. Tra l'altro, quando ti hanno detto che devi partire, ti eri appena sposato con una cosmonauta. Esatto, quindi è stata tutta una coincidenza, è stato un periodo di 3-4 mesi della mia vita in cui sono accadute tantissime cose, in cui ho fatto delle scelte, mi sono state offerte delle opportunità. Io mi immagino lei, scusate, da donna, mi immagino lei, ti sposi e dice questo parte e va nello spazio, l'ansia, l'angoscia. L'ansia, l'angoscia, ma siccome lei aveva vissuto lo stesso sogno, anche la comprensione e la partecipazione di cosa voglia dire realizzare un proprio obiettivo. C'era anche l'idea di essere un po' a servizio, tu eri militare, quindi dal punto di vista della disciplina, anche dell'educazione che avevi ricevuto, immagino l'idea di svolgere un compito, una missione, ti fosse familiare. Assolutamente, perché chi fa l'astronauta molto spesso viene confuso con un grande scienziato. Allora, non necessariamente, ce ne sono anche astronauti che sono stati anche degli scienziati, ma non necessariamente per essere astronauti bisogna essere scienziati, bisogna essere soprattutto qualcuno che è in grado di operare con continuità e con precisione in orbita. E il fatto del servizio... Con una laurea in lettere non ci vai. Almeno quella in fisica ci vuole. Ci vuole almeno un minimo di background scientifico. Però quando uno va in orbita capisce che è lì non per se stesso, ma soprattutto per la schiera di scienziati e di tecnici che hanno contribuito a mandarci in orbita e a darci il motivo per cui noi andiamo in orbita, ossia tutta la serie di esperimenti che noi ci portiamo a bordo. Che nel tuo caso erano? Nel mio caso erano, diciamo, la missione di più di 16 giorni era divisa in due parti. La prima parte un esperimento, tra l'altro prettamente italiano, di concessione italiana e di costruzione italiana, un famoso satellite al filo, un'esperienza di elettrodinamica, molto difficile da spiegare, diciamo, dal punto di vista teorico. Ti credo sulla parola. Ma tanto per dare un'idea era, diciamo, un metodo innovativo di generare energia volando nel campo magnetico terrestre. E l'altra parte invece è scienza dei materiali. Scienza dei materiali che sembrano un gran parolone, ma invece è molto più terra a terra di quanto noi possiamo pensare. Noi in particolare avevamo materiali del campo dell'elettronica, ma adesso si portano molto spesso, diciamo, esperimenti che hanno a che fare con la medicina e lo spazio, perché questo è un po' in effetti il compito dello spazio, rendere migliore la vita sulla terra. Sembra un controsenso, ma si va nello spazio come, diciamo, un laboratorio naturale complementare a tutto quello che si fa sulla terra. E per ritornare, diciamo, alla domanda dello spirito di servizio, quando uno va in orbita sa che ha degli esperimenti a cui delle persone hanno dedicato per alcune, addirittura, l'intera loro vita professionale. Quindi uno si deve preparare con molta più precisione e molta più coscienza di quello che non farebbe se addirittura l'esperimento fosse il proprio, perché sa che mette in gioco il lavoro di tante altre persone, non solo il proprio. Sì, mi sembra di entrare in Interstellar, da questo punto di vista, questa idea della responsabilità che si passa da generazione a generazione, anche perché sono lunghi questi esperimenti, sono molto lunghi, questi tempi. Noi abbiamo qualche volta la percezione che queste missioni spaziali, alcune più infortunate e altre anche drammatiche, abbiano comunque uno scopo principio militare. No, è un'idea molto sbagliata. C'è anche la parte militare, come c'è sulle attività di laboratorio sulla Terra, dove c'è chi si applica la ricerca militare, ma tanti si applicano la ricerca civile. Per quanto riguarda la NASA, di militare c'era molto poco, essendo un ente prettamente civile, un po' come lo è l'Agenzia Spaziale Italiana o l'Agenzia Spaziale Europea, in cui comunque ci sono dei piccoli nuclei di attività che adesso è molto difficile discriminare tra attività solo militari o solo civili. Ci ha mai preoccupato questa possibilità? È una domanda molto di etica, ma già mi ero fatto quando sono entrato in aeronautica militare, perché la scelta di fare il militare, forse quando l'ho fatta io era addirittura più difficile di quanto non lo sia adesso, alla fine degli anni 70. Quindi per chi si ricorda… Se uno però voleva volare o lo faceva nell'esercito… Per me era così, io non avevo i mezzi per farli in un altro modo. Però poi come la storia ha dimostrato, che piaccia o no, le attività militari, se sono prettamente di difesa, comunque servono. Quando io sono entrato, come racconto un po' nel viaggio della mia vita, io l'ho fatto per tanta passione, il mondo era ancora bipolare, c'era la guerra fredda, ma era come se non ci fosse niente, adesso non vorrei essere frainteso, era un po' il fatto che uno sapeva che se si attaccava ci sarebbe distrutti a vicenda, per cui era un po' uno stallo, uno stallo armato… Un equilibrio di forze. Un equilibrio di forze, cosa molto diversa da quello che invece la cronaca di tutti i giorni ci pone di fronte, perché basta aprire il giornale al giorno d'oggi e uno vede come il mondo è veramente tanto cambiato e quindi anche le scelte delle persone secondo me oggi devono essere molto più consapevoli forse di quello che non ho vissuto io al mio tempo. Interessante perché l'etica di un militare, l'etica di un uomo di scienza non possono essere lasciate da parte come un corollario rispetto alla propria attività. E peraltro sono domande, sono questioni che tu ti sei posto con dovizie di riflessioni perché hai scritto un libro che si intitola Tutti in un istante. E la cosa che mi fa impazzire è che questo non è solo il momento del lancio, questo Tutti in un istante, ma è l'insieme degli istanti, delle decisioni della vita, dei cambiamenti, perché la forza di decidere di essere se stessi, di essere protagonisti, uno ce la deve avere nelle diverse circostanze, no? È assolutamente vero, infatti sapevo quello che non volevo fare, non volevo fare l'ennesimo libro su un viaggio spaziale, anche se il viaggio spaziale è stato un capitolo... Lo racconti però perché è importante... Lo racconto perché è un capitolo molto importante della mia vita e soprattutto è arrivato dopo una serie di tappe, quindi me lo sono costruito in un certo senso. Ma è un libro soprattutto perché mi ha sempre affascinato, diciamo, questo concetto, che non so neanche se riesco ad esprimere bene, ma ci provo, che è quello che certe volte noi abbiamo dei sogni, degli obiettivi che sono, alcuni sono a corta portata, altri sono a medio e lungo termine e quindi noi facciamo delle attività, facciamo delle scelte, prendiamo delle decisioni, continuiamo la nostra attività di tutti i giorni, inseguendo questo obiettivo con una strada che è più o meno tortuosa, non è mai dritta. Poi però arriva un momento preciso, il nanosecondo, quello in cui uno spinge il dito sul bottone invio di un computer o sente lo shuttle sollevarsi da terra o imbuca una lettera per un concorso in cui tutto si concretizza e quindi mi sono reso conto che la vita è fatta di attività che si estendono nel tempo, ma costellate da tappe fondamentali che si concretizzano in un momento in cui noi a un semaforo decidiamo di andare a destra e di non andare a sinistra. Il problema è se vai dalla parte sbagliata. Ma questo fa parte anche della vita, io dico, e fa parte anche della capacità dell'uomo di assumere dei rischi, perché è molto semplice, noi lo vediamo anche nella vita di tutti i giorni, cullarsi nel proprio comfort, ma se si vogliono ottenere dei risultati, mettiamola così, non si possono ottenere dei risultati se non si accetta anche il rischio di fallire. E anche la capacità di adattarsi alle conseguenze che derivano dalle tue scelte. Mi ha colpito quando tu avevi la possibilità di tornare nello spazio, potendo subito al volo. Esatto. E invece hai scelto di no. E poi hai avuto il dubbio che fosse una decisione sbagliata, però ti sei adattato volentieri a fare il collaudatore peraltro di Eurofighter, che credo sia il velivolo che ami di più. Esattamente. Quindi è stata una soddisfazione. Assolutamente, sì, perché diciamo, ma ho avuto un dubbio forte perché entrambe le attività erano molto, per me mi attiravano molto, avevano un certo, un tassino entrambe, però io sono sempre stato attratto dalla novità, dal fatto di mettere a frutto nella tappa successiva della mia vita l'esperienza che ho fatto nella tappa precedente. Allora, volare nello spazio è fantastico, mi dicessero oggi, ritorno nello spazio, direi subito di sì. Ma ci staresti anche mesi, come succede adesso a Cristoforetti? Ci starei anche mesi, perché so cosa vuol dire. Proprio perché so cosa vuol dire, accetterei di starsi anche mesi e sarei contento. Però la novità per me è sempre stato un qualcosa che mi sono sentito dentro, e poter collaudare un velivolo da zero, cioè un velivolo completamente nuovo, nella vita di un pilota collaudatore, quando ormai i programmi aeronautici durano dai 25 ai 30 anni, trovarsi in fase, perché come hai detto tu, nello spazio non c'è niente di breve, c'è lo spazio e le attività umane vanno con una certa lunghezza d'onda, la nostra vita va con un'altra lunghezza d'onda, è non semplice, si trova in fase nello stesso punto, un punto di poter scegliere. Quando mi sei presentato a questa occasione ci ho pensato, ma il fatto di fare qualcosa di nuovo per me è stato più forte di qualunque altra motivazione. Tu sei un motivatore anche di professione proprio, e nel libro alla fine di ogni capitolo di racconto, dell'età per la tua vita, dici allora ragazzi un attimo, voi in certe situazioni dovete fare così, forse è meglio che facciate in quest'altro modo, cioè dai proprio delle indicazioni di carattere psicologico anche. Beh diciamo è stata mia moglie, Marianne, che fa questo di mestiere e che io ci tenevo tanto, non perché non esiste un manuale della vita, sarebbe troppo bello, però volevo fare un libro che fosse anche uno spunto di riflessione, non per fare lo stesso percorso che ho fatto io, ma perché ognuno possa trovare il proprio percorso. Sono due frasi secondo me che esemplificano il contenuto di questo libro. Prima di essere pilota d'aereo volevo essere pilota della mia vita, perché secondo me ognuno di noi ha la capacità di condizionare il proprio futuro e questa è la cosa più importante, nonostante l'ambiente in cui siamo nati e io faccio l'esempio, perché sono nato in una famiglia molto modesta in cui era meglio un uovo oggi che una gallina domani, tanto per capirci, e quando uno paragona questo al fatto di fare l'imprenditore con tutti i rischi associati è veramente un grande salto diciamo mentale e l'altro è che le stelle brillano, questa è una frase di Sant'Exupery, le stelle brillano perché ognuno possa trovare la sua, perché io penso che veramente ognuno di noi possa trovare la sua e allora volevo fare un libro che servisse anche a tanti ragazzi che al giorno d'oggi in un ambiente sicuramente in una società molto più difficile io ritengo di quello in cui non ho vissuto io la mia giovinezza, dare uno strumento per poter facilitare la loro scelta, come dicevo non per fare l'astronauta ma per trovare ognuno la propria. Comunque tu sei di zocca e viene immediatamente alla mente il paese natale di Vasco Rossi, non ti sei fermato a Roxy Bar a bere dei whisky? No, non avevo tempo per la verità, esattamente non avevo tempo perché questa è un'altra di quelle cose che ho scoperto diciamo sulla mia pelle, il tempo è veramente forse la cosa più importante che noi abbiamo nella nostra vita e soprattutto come lo usiamo e il come lo usiamo soprattutto nei primi anni quando andiamo a scuola, quando facciamo fatica ad andare a scuola, perché anche a me piaceva più andare a giocare a pallone che non studiare, però quelli noi dobbiamo renderci conto che condizionano, condizioneranno per sempre il nostro futuro ed è per questo che l'impiego del tempo secondo me è molto importante. Raccontami il tempo infinitesimale, brevissimo ma denso del momento in cui siete stati catapultati nello spazio. Quello per me è stato il momento più esaltante della mia vita perché non tanto il lancio, il lancio sì, per quello che simbolizza, perché ci si solleva da terra, si lascia un qualcosa di conosciuto. In mezzo al fuoco, sì, un rumore dietro, un attutito, le fiamme dietro, si sente questa spinta possente, tutto cambia ad ogni secondo, a circa 30 km di quota il cielo diventa nero, si invertono i colori completamente e poi uno si ritrova catapultato in orbita a oltre 25.000 km all'ora, 8 km al secondo, una velocità, per chi vola sulla terra, inimaginabile. Ti schiaccia il seggiolino. Ti schiaccia il seggiolino, eccetera. Ma il momento, diciamo, e questo è molto fantastico dal punto di vista di emozioni personali, ma soprattutto fisiche perché è un qualcosa che ti vibra e tu vibri con la tua macchina mentre vai in orbita, ma vibri nel vero senso della parola, non solo in maniera metaforica. Ma quando poi uno, e tra l'altro uno sa che lascia il proprio mondo e per chi vola la prima volta va verso un qualcosa di sconosciuto e che ancora non conosce, ma la cosa più bella in assoluto è stata quando sono arrivato in orbita, uno dei miei primi compiti era quello di aprire le porte della stiva di carico dello shuttle, lo shuttle ha due grandi finestrini da dietro che normalmente guardano all'interno della stiva, perché quando questa è chiusa non si vede niente. E man mano che si aprivano questi portelloni ho visto la terra apparire all'orizzonte con i colori, tre colori che ho riporto sulla copertina del mio libro, perché sono quelli che mi hanno colpito, il blu, il bianco e il nero. La terra è fondamentalmente, lo chiamano il pianeta blu, è fondamentalmente un pianeta blu perché tre quarti del nostro pianeta è fatto di acqua, il bianco delle nubi e il cielo, diciamo lo spazio profondo nel background, nello sfondo nero, che io così nero onestamente non l'avevo mai visto, quasi da avere timore, un timore reverenziale, diciamo non paura ma un certo timore. Ecco, con che sguardo si osserva la terra? Tu dicevi timore reverenziale, la senti piccola o la senti grande? La senti tua? Ecco, e questo è qualcosa che è molto, la senti tua perché sai che quello è il tuo pianeta ma nello stesso tempo sei al di fuori, anche se non sei così tanto lontano, questo è un qualcosa che stupisce molto le persone e che ha stupito anche me perché molti pensano che quando uno vada nello spazio al giorno d'oggi o con lo sciattolo o con la stazione spaziale si vanno alle stesse quote, tra i 380 e i 400 chilometri di quota, da quella quota, da quella distanza non si vede la terra come un piccolo puntino blu come le fotografie degli astronauti che sono stati sulla Luna hanno visto perché sono andati a 380 mila chilometri. Io per dare un esempio pratico faccio sempre questo paragone, si va a circa 3 ore di macchina potendo guidare verso l'alto, e lì si dà un'idea, quando uno guarda giù vede la terra a dimensioni di continente, cioè da orizzonte a orizzonte vede l'Europa, vede l'Africa, vede l'America, ma si vede già bene, è già una distanza sufficiente per vedere bene la curvatura della terra, questa sottilissima striscia azzurra dell'atmosfera e quello che colpisce è che si vedono le città, si vedono come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo e a causa delle forze naturali, cambia sempre in peggio ma non si vede l'uomo e quindi bastano 3 ore di macchina perché guardando giù noi scompariamo della nostra vista e questo è qualcosa di emotivamente molto forte, perché pensare che sia sufficiente una così corta distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva molto diversa rispetto alle dimensioni dell'universo è qualcosa che colpisce profondamente. Ma predomina il senso della fragilità della terra e ancora di più dell'uomo o il miracolo, la gratitudine per essere uomini su questa terra e riuscire a guardarla dall'alto? Io penso entrambi perché entrambe sono collegate, allora che la terra, spiegare il mistero della vita sulla terra guardandola così è veramente qualcosa che va oltre secondo me la semplice razionalità perché quando uno guarda poi non solo verso la terra ma guarda dall'altra parte e vede il nero, le distanze siderali è qualcosa di incredibile pensare che ci sia vita su questo pianeta e poi la fragilità, quello sicuro perché noi siamo sulla navicella quando orbitiamo la terra ma quando siamo sulla terra siamo su una navicella un po' più grande ma sempre una navicella quando uno la guarda a dimensioni dell'universo e vedere questa piccolissima striscia azzurra, l'atmosfera che è poi non più spessa di 30 chilometri con un esempio che tanti capiscono, se uno potesse assimilare le dimensioni della terra, le dimensioni di una pesca, di medie dimensioni, lo spessore dell'atmosfera sarebbe equivalente a quello della pelle della pesca e quindi è qualcosa che anche rispetto alle dimensioni della terra è molto contenuto e questo è quello che ci permette di sopravvivere. C'è anche il rischio dell'onnipotenza, del delirio dell'onnipotenza dello scienziato che si sente capace perché ce l'ha fatta? Io per me è stato esattamente l'opposto, il contrario, cioè esattamente la picco, la piccolezza dell'uomo rispetto all'universo. Eppure come tu hai detto è un miracolo che noi ci siamo. È un miracolo che noi ci siamo e questo è il mistero della vita che io non so spiegare e che ognuno di noi cerca di spiegare in modo diverso. Maurizio Leopardi guardava le stelle chiedendosi il perché del mondo, il significato dell'esistenza. Là cambiano le domande? No, le domande secondo me rimangono le stesse perché rimaniamo noi stessi anche quando siamo in un mondo che senza la macchina che ci circonda non ci permetterebbe neppure di sopravvivere. Però io penso che quello che si capisca bene, personalmente questo è quello che mi è accaduto, è che noi tutti pensiamo che l'Italia sia il centro del mondo, Roma sia il centro del mondo, il nostro piccolo paese zocca sia il centro del mondo e che ognuno di noi sia il centro del mondo. Ecco, basta allontanarsi di tre ore di macchina per capire che questo assolutamente non è vero. Si vede l'inquinamento dall'alto? Questa è un'altra di quelle cose che colpisce, io penso, chiunque voli nello spazio, perché sono dei concetti astratti come inquinamento, siccità, che noi capiamo, ce lo raccontano, ce lo raccontano, c'è una spiegazione fisica. Lì lo spazio lo si vive con altri sensi, nel senso che si vive questa nuova dimensione non solo con la vista ma con il proprio corpo perché si vola, ma poi soprattutto certi concetti come l'inquinamento lo si vede. Come si vede? Lo si vede, io ho alcune foto che proietto sempre dell'Ovest della Cina, che sono una foto bellissima dell'Ovest della Terra con delle nubi sotto e tutti pensano che siano nubi di vapore acqua, nubi normali legate alla meteorologia. Invece sono nubi di smog perché sotto quella coltre di nubi ci sono centinaia di milioni di persone che vivono bruciando combustibili fossili. Allora io non dico che uno debba tornare dallo spazio dicendo dobbiamo tornare all'età della pietra perché quella era l'età felice, però sicuramente uno ritorna… Però tu sei testimonia del fotovoltaico. Sono testimonia del fotovoltaico perché credo alle energie alternative, questo sì, perché permettono sicuramente di migliorare o di non depauperare il nostro ambiente con la stessa intensità con cui lo facciamo adesso. Allora quando uno torna dallo spazio secondo me si rende conto che è quasi inevitabile che noi dobbiamo trovare un modo di vita che coniughi il progresso perché il progresso serve anche per vivere tutti meglio possibilmente ma con il rispetto dell'ambiente perché altrimenti non lasceremo niente ai nostri figli. Conoscere lo spazio dunque aiuta a conoscere la terra? Andare nello spazio è prevalentemente andarci per conoscere meglio la terra, esattamente. La fragilità della terra può essere osservata attraverso l'esaurimento progressivo delle risorse, delle modifiche climatiche, del sabotaggio degli ecosistemi e della diminuzione della biodiversità. c'è anche una responsabilità in chi ha potuto avere molto, in chi ha l'occasione di vedere e di conoscere rispetto alla nostra insensatezza. C'è una responsabilità anche degli stati che sono gli stessi che mandano le persone in orbita. Sì, è così, ma io ho preso questa non dico come una missione personale ma sicuramente come un qualcosa che nella mia attività di comunicazione o quando mi chiedono di fare convention o presentazione sull'attività degli astronauti eccetera che io sistematicamente ricordo perché io penso che chi ha avuto la fortuna e il privilegio di poter vedere la terra da un'altra prospettiva ha il dovere di raccontare come la si vede per sensibilizzare tutti quelli con cui si viene a contatto sia la persona normale, sia la persona che si incontra per strada sia invece che ha il potere di decidere perché comunque, e lì secondo me anche nel libro c'è un piccolo, una piccola metafora, quella del colibri che nel corso di un incendio prende e va a mettere una propria goccia di acqua sul fuoco. Certo, quella goccia d'acqua non spegnerà mai il fuoco ma sicuramente aiuta e sicuramente ognuno di noi deve fare qualcosa. Allora se non cominciamo da noi stessi è difficile pensare che decisioni che vengono dall'alto possano cambiare. Sicuramente aiutano ma ci vuole la consapevolezza personale. Questa consapevolezza personale io cerco, delle persone, cerco di suscitarla, di motivarla mostrando delle immagini e facendo capire quello che sta succedendo. Anche il cielo va tutelato però e va rispettato. Assolutamente. Non è che gli astronauti inquinano un po' anche loro? Beh, diciamo che quando si va in orbita è quasi... Quando devi partire questi razzi pensi al carburante bruciato? È così. C'è quello che spara in cielo? Sì. Beh, a parte che diciamo sullo shuttle una parte era inquinamento, altra era idrogeno ed ossigeno, quindi diciamo una combustione che non dico pulita ma comunque più pulita, chiamiamola così. E questa è un'altra delle limitazioni che noi abbiamo nel nostro mondo. Per questo che bisogna trovare diciamo un compromesso. Non avremmo mai potuto percepire la Terra in questo modo se non fossimo andati sulla Luna o se non avessimo potuto avere da un'altra prospettiva. Quindi c'è sempre un piccolo prezzo da pagare. E questo fa parte anche del progresso. Io mi aspetto che nel futuro, adesso in orbita purtroppo ci si può andare solo, ci serve dell'energia per andare in orbita. Bisogna accelerare a velocità inirraggiungibili sulla Terra se non con certi mezzi, attraverso in effetti un'esplosione controllata. È per questo che è anche pericoloso andare in orbita. Ma io spero sempre che nel futuro ci possano essere, diciamo, con il progredire della scienza, ci siano dei sistemi che prigionino la stessa capacità di energia per andare non solo così vicino alla Terra, ma anche un po' più lontano. Ci sono moltissime scorie. Le hai viste? Si notano? Allora, non si notano, ma noi per esempio ci sono. E noi per esempio nel corso del nostro volo abbiamo preso l'equivalente di un piccolo sassolino che ha incrinato uno dei vetri, come quando noi guidiamo sull'autostrada e prendiamo un sasso della macchina che ci precede, perché quando uno viaggia in orbita, le energie, anche per masse molto piccole, quindi anche per piccolissimi detriti, le velocità in gioco sono talmente elevate che l'energia che si associa a queste velocità, a queste piccole masse, è enorme. E noi abbiamo incrinato un piccolo, non è stato niente di pericoloso, ma comunque c'è molto di più di quello che noi non pensiamo. La paura, come si vince? La paura in genere è legata allo sconosciuto, al fatto che noi… Sei in mezzo al nero. Sei in mezzo al nero, ma la paura secondo me si può vincere con la consapevolezza delle proprie capacità, che vengono nel caso dell'astronauta migliorate nella fase di addestramento. Mettendoci a confronto con situazioni sempre più difficili. E uno capisce che ci sono… è in grado di sopperire a malfunzionamenti sempre più complicati e quindi sa che può fare qualcosa. Poi non sei solo, questo è importante, no? Poi non sei solo. No, questa è un'altra cosa molto importante, perché questa è un'altra grande lezione dello spazio, secondo me, che contrariamente all'attività di pilota, dove uno, per come sono fatte le cabine dei velivoli, allunga una mano e può fare anche il lavoro di chi sta di fianco. Nell'attività dello spazio questo non è possibile. Ci deve essere una gran fiducia nelle proprie competenze, nei mezzi con cui si sale in orbita, ma soprattutto negli altri. E questa è una grande lezione anche per quando torniamo sulla Terra, perché se alla base del rapporto di lavoro o umano non c'è la fiducia, non si va tanto lontano e sicuramente non si va nello spazio. Grazie allora, grazie Maurizio, che li continua a motivare soprattutto i ragazzi, in bocca al lupo per la tua attività di imprenditore, naturalmente di aerei. Questo l'accetto volentieri perché al giorno d'oggi è difficile. Naturalmente di aerei, una grandissima ammirazione. Grazie. Grazie.